SACRIFICIO Non credo proprio che potrete passare da qui Mi squarterò personalmente No! Fermi! Non ora Fermi! Ultimo! Questo è il secondo corso E sicuramente il mio controllo potenzia anche l'essere più infinito Le esplorate l'aria per riuscire a proseguire Auguri Prego, prendete pure Sto venendo a prenderla Troppo facile da trovare Essere un'osserabile a cui ho dato di nuovo uno scopo In preparazione alle prove che vi aspettano Il battito si fa accennato Il respiro è affannato Il virus è in fermento Capito! Caesar, mi squarterò personalmente Continuare a pesare! Forza voce! Qua! Deve esserci qualcosa di utile Sono sopravvissuti in così tanti? Beh, avremo più dati a disposizione Sentite il loro respiro Mentre rabbrividite di paura L'aria è pregna del fettore della morte Che stimola i ricettori della paura Troppo facile Essere miserabile A cui ho dato di nuovo uno scopo Fermi! Il mio controllo Potenzia anche l'estero è più inizio Inghietro, tecco Qui, ora Sono in ecstasy! Il tempo scorre! Appuovite la tessera e non deludetevi E qui, lo trasferà il curativo in uso Grazie, ricambierò Sto venendo a prendere Sto venendo a prendere E per avvicini Siamo arrivati Un attimo, forse tu non sopporto chi fa battaglia sul mio nome. Non essere miserato, accettato di uovo o massimo. Sto venendo a prendere. Non mangiare! Raduniamoci e curiamoci! Nervi saldi! Non ci siamo proprio! Il mio controllo potenzia anche l'essere... Ci riuscirebbe anche un... Perchè volete il ritardo? Non avete ancora abbastanza paura? D'accordo. Proseguite verso la prossima area e vedrò che cosa posso fare. Tutto questo non sarà difficile. Fatevi divorare dalla... Fatevi divorare dalla... Vi squarterò personalmente! Non ci siamo! Fatevi divorare dalla... Fatevi divorare dalla... Oli! Il mio controllo potenzia anche l'essere più infine. Sto venendo a prenderti. Non succederà affatto. Sto aspettando la sua volta. E ora, tremate ancora di più! Come prevedevo! Ti squarterò personalmente! Cos'è si può fare? Quando il Dio so... Essere miserabili... Accoglionato di nuovo uno scopo! È giunta la vostra fine! È giunta la vostra fine! Una morte migliore del suo compagno! Ma forse il mio controllo potenzia anche l'essere più infine. Questa è giunta la vostra fine! Questa è giunta la vostra fine! Sentite il loro respiro mentre rabbrividite di paura di essere miserabili, a cui ho dato di nuovo uno scopo! Sentite il qualsiasi sacco, vero? Fatevi divorare dalla mano! Sento il sapore della rispera! Sto venendo a prenderti! Porca vacca! Per me! Aria è in grado! Non sapeva fare di meglio! Va a te! È giunta la vostra fine! È giunta la vostra fine! Per me! No! 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 Il coraggio del ratto non lo salverà dal suo predatore. Fugli! Ma divertente! Mi squarterò personalmente! Mi raggiungeranno! E per voi sarà la fine! Il mio controllo potenzia anche l'essere immunitario. Servono munizioni! Mi squarterò personalmente! Si! Si! Oh! Sì! Sto venendo a prenderti. 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 Siete distratti troppo facilmente! È giunta la vostra fine! È giunta la vostra fine! È giunta la vostra fine! Come mai non siete morti tutti? Per il momento può bastare, ma dovrò ripetere l'esperimento!